Comune di Biella, buona spesa per le famiglie in difficoltà, ma giungono anche alcune proteste per la scelta di favorire soprattutto la grande distribuzione. Forte calo demografico a Mungrando, il sindaco Tony Filoni esprime la propria preoccupazione circa lo spopolamento del territorio. Verrone, scuole e servizi individuali, per tutto il 2022 restano invariate le tariffe. La sezione di Mottalciata degli Alpini fa il punto sull'anno passato e su quello appena cominciato, con la speranza di poter effettuare il viaggio a Rimini. Fondi Terra della Lana, interventi mirati al Forum, il vice sindaco Moscarola assicura. Buon sabato e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale della provincia di Biella. Condivisibile la decisione del comune e del capoluogo di avviare per le famiglie in difficoltà i buoni spesa, ma giungono anche alcune proteste per la scelta di favorire soprattutto la grande distribuzione a discapito dei piccoli negozi di vicinato. Solidarietà ai negozi di vicinato oppure alla grande distribuzione? Tante parole sono state spese negli anni da tutte le parti politiche per garantire la sopravvivenza di tutti i piccoli esercizi che rendono un servizio importantissimo, anche ai quartieri più defilati e che, come sappiamo, sono vissuti prevalentemente da persone anziane. Non da meno l'attuale amministrazione, che ha fatto di questo principio uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale. Ora sono pervenute in redazione numerose segnalazioni. Noi piccoli commercianti dimenticati dal comune. Diversi esercenti che, già messi in ginocchio dal periodo di crisi sanitaria ed economica, hanno notato una discrepanza non di poco conto. Recentemente abbiamo dato voce all'assessore alle politiche sociali del comune di Biella, Isabella Scaramuzzi, che ha documentato l'inizio della distribuzione e dei buoni spesa, un aiuto importante per le famiglie che non riescono a far quadrare il pranzo con la cena. Un portafoglio di spesa che arriva fino a 600 euro a nucleo e che, poco prima del periodo natalizio, ha offerto uno slancio importante per imbandire le tavole delle feste. Slancio che però parrebbe aver favorito unicamente la grande distribuzione. Gli esercenti che hanno denunciato l'anomalia hanno inoltre riferito di aver contattato l'ufficio di Palazzo Pella per chiedere conto di questa esclusione, che negli anni scorsi invece non era stata registrata ed hanno affermato di aver ricevuto in modo cortese un secco no grazie. I ticket possono essere spesi unicamente in alcuni supermercati o negozi di grandi dimensioni. Abbiamo tentato questa mattina di raggiungere l'assessore di riferimento ma senza esito. Nei prossimi giorni, così come impone la nostra linea editoriale, vi dettaglieremo un'eventuale risposta istituzionale. Sono arrivati i furgoni del Corriere per la consegna a Ponderano di altre 1900 dosi del vaccino Moderna. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Chiavari e proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali presso la farmacia ospedaliera di Biella. Durante il 2021 sono state consegnate 83.900 dosi e sono stati consegnati anche 100 milioni di kit vaccinali per la somministrazione a livello nazionale. Sempre in collaborazione anche con l'esercito, si stanno consegnando in Italia 952.000 dosi del vaccino anti-Covid. Torniamo nel territorio a Mongrando. Un forte calo demografico e il sindaco Tony Filoni esprime la propria preoccupazione a circa lo spopolamento del territorio, una problematica che riguarda tutto il territorio biellese. Il sindaco di Mongrando, Tony Filoni, analizzando i dati degli ultimi anni sull'andamento demografico del proprio paese, lancia un allarme per il decremento subito dalla popolazione dal 2014 ad oggi. Ci rendiamo tutti conto di non essere gli unici tra i territori con analoghe peculiarità, ma compito di un'amministrazione seria, sottolinea il sindaco Filoni, è anche quella di saper analizzare i dati e anticipare possibili decadimenti del proprio territorio. Si può in effetti notare che la pandemia ha soltanto amplificato il problema dello spopolamento dovuto più che altro non tanto al fatto che i giovani abbandonano il paese, ma anche alle poche nascite e ai molti decessi subiti nel periodo analizzato. Dal 2014 a fine 2021, a fronte di 156 nascite, si sono verificati 360 decessi. I dati sono stati parzialmente mitigati dalle nuove cittadinanze promosse dal sindaco per un totale di 81. Dunque, solo negli ultimi due anni, si sono verificati 121 decessi a fronte di appena 31 nuove nascite. Come giunta, ancora sottolinea Tony Filoni, rendendoci pur conto della difficile situazione in cui stiamo vivendo e ben sapendo di non poter agire più di tanto in mancato alle mancate nascite in paese, ci applicheremo con ogni mezzo possibile per incentivarle, attuando tutte le misure che sono in nostro potere attraverso sgravi, bandi o iniziative appositamente studiate. I dati della settimana rilevati nelle scuole hanno confermato quanto annunciato dall'assessore Gabriella Bessone. Le mense rimangono aperte. Parliamo inevitabilmente di contagi e di scuola. Vi abbiamo rendi contato nelle scorse ore il continuo avanzare purtroppo di casi Covid. Il tema della scuola è assolutamente delicato. Questa mattina ci troviamo davanti all'Istituto Marconi, come vediamo assolutamente ristrutturato, ma il tema al centro adesso è un altro. Assessore, bisogna cercare di contenere i contagi, è così? Sì, buongiorno a tutti. Effettivamente il problema maggiore è quello di contenere i contagi. In questi giorni si vedrà poi la percentuale dell'infezione durante la scuola, perché magari i ragazzi che erano comunque positivi o erano assenti al primo suono della campanella dopo le vacanze natalizie dipendono ancora dai contagi avuti durante le vacanze. Certo è che bisogna la scuola in questo momento, va monitorata tutti i santi giorni e cercare tutti insieme di trovare le soluzioni per poter garantire la didattica in presenza. Si è già parlato, io ho avuto modo di parlare con entrambi, con i tre dirigenti scolastici per un discorso purtroppo del distanziamento in special modo durante le mense. Primariamente noi cerchiamo di tutelare la sicurezza dei ragazzi. Qualora questa sicurezza viene a meno perché, specialmente nelle primarie di secondo grado, abbiamo il contatto stretto che deve venire con l'FP2 ma deve stare a due metri di distanza e quant'altro, certo è che se in una classe mi trovo quattro ragazzi con il contatto stretto, non posso prendere un'aula per la mensa solamente per quattro ragazzi. In queste ore è uscita la notizia chiusura di tutte le mense, è così o non è così? No, non è così. Tanto parliamo per quanto riguarda il primo ciclo, ci sono le scuole che hanno il tempo pieno e quindi non è fattibile farlo. Ci sono stati fatti dei lavori di ampliamento e sono stati depositati questi container che andranno a sopperire e aiutare laddove mancano gli spazi. Quindi si valuta, si valuteranno in queste ore, in queste giornate perché stamattina farò il giro delle tre presidenze e in più ci incontreremo in assessorato con i tre dirigenti proprio per capire come affrontare questa tematica. Vedremo insomma come si evolverà la situazione. Intanto per le famiglie che magari sono un po' in allarme sulla questione delle mense, è tutto ancora in divenire? Sì, io vorrei tranquillizzare tutti quanti perché poi la stampa, il giornale, non me ne abbia Katia, a volte dal titolo sembra che è già tutto deciso, è già tutto fatto. In realtà noi stiamo monitorando proprio per questa ragione esclusivamente per tutelare l'integrità dei ragazzi a livello sanitario ma anche cercare di non andare in dad. Quindi tranquillizziamo tutti quanti che per ora è solamente un'ipotesi che possiamo valutare solo fra qualche giorno. Quindi io mi auguro che non serva questo intervento ma qualora dovesse servire per tutelare i ragazzi si farà un po' di sacrificio per alcuni giorni. Comunque speriamo e auguriamoci tutti che non serva questo intervento. Verrone, scuole e servizi individuali, il Comune rinnova la gratuità del pre e post lezioni e per tutto il 2022 restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e niente IRPEF. Paese di Verrone e scuole, il Comune rinnova la gratuità per il pre e post lezioni per tutto il 2022. Sempre a Verrone resteranno invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale. I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di riferimento di Verrone, che è quella di Sandigliano, dispongono del servizio di scuolabus. Il Comune anche per quest'anno sostiene le attività dell'istituto scolastico attraverso l'erogazione annuale di contributi economici. In particolare l'amministrazione cerca di essere di supporto alle famiglie, mettendo a disposizione gratuitamente il servizio di pre e post scuola, sia alla scuola dell'infanzia, sia alla primaria e calmierando il costo dei buoni pasto. Ancora per quest'anno i servizi restano gli stessi, senza subire aumenti e nessun addizionale IRPEF. Quest'ultima è una precisa scelta politica che il primo cittadino spera di poter portare ancora avanti. Vicinanza alle persone, solidarietà e si spera anche il viaggio a Rimini. La sezione di motelciata degli Alpini fa il punto sull'anno passato, ma anche su quello appena cominciato. Allora nel 2021 abbiamo fatto diverse cose, qualcuna, nel nostro piccolo abbiamo fatto delle grigliate e delle serate da sporto che si sono portate molto bene, la popolazione è rimasta molto contenta e molto coinvolta e anche a noi ha fatto molto piacere, soprattutto per rimpinguare un pelino le casse che erano praticamente vuote dato questo brutto periodo. Purtroppo penso che per il 2022 non si sa ancora, magari se cambia qualcosolina programmeremo qualcosa ancora in futuro. Di nuovo le solite grigliate penso che sono le cose più pratiche da fare come asporto e poi si vedrà, non so dire altro in questo momento. Noi sindaci vogliamo sfilare insieme a loro, perciò noi ce l'auguriamo davvero di andare a Rimini a maggio prossimo. E' due anni che rimandiamo, che rimandano loro, via, giustamente, ma non ci pare il vero di essere con loro, che è la loro festa in un certo senso. E parliamo di mobilità sostenibile. Tra poco al centro commerciale Gli Orsi di Biella nascerà una prima colonnina rapida per la ricarica di auto elettriche. Un accordo importante tra Atlante e Sona e Sierra, società a cui fa capo il centro commerciale Gli Orsi di Biella e che prevede la realizzazione di una prima stazione di ricarica rapida per i veicoli elettrici presso il centro commerciale di Biella, aperta ai clienti e al pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso di sostenibilità intrapreso da Sona e Sierra nel corso degli anni, che ha già portato la società a ridurre le proprie emissioni CO2 più dell'80%. Atlante sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultra rapida del sud Europa, integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energie e da fonti rinnovabili e supportata da sistemi di accumulo. La sostenibilità è sempre stata al centro delle strategie di business di Sona e Sierra e sempre di più ci poniamo l'obiettivo di sviluppare progetti e soluzioni che generino valore condiviso per l'azienda, l'ambiente e la società. E' quanto afferma José Maria Roble, General Manager di Sona e Sierra. Per questi motivi, aggiunge, siamo entusiasti del progetto Gli Orsi di Biella, un primo importante passo che potrà aiutare noi e i nostri partner a costruire un ambiente urbano ancora più sostenibile a livello ambientale. Sono orgoglioso, ribatte Stefano Terranova, amministratore delegato di Atlante, che Sona e Sierra abbia scelto Atlante per proseguire nel proprio percorso di elettrificazione a sostegno della mobilità elettrica. Con le stazioni di ricarica rapida a zero emissioni, vogliamo contribuire a questo progetto e sono convinto che sia solo il primo passo di un percorso condiviso. Servizio civile presso la sezione AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella sono disponibili due posti, c'è tempo fino al 26 gennaio per prenotarsi. Bando di servizio civile presso la sezione AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella. Sono disponibili due posti e c'è tempo fino al 26 gennaio. La durata del servizio è di 12 mesi e possono aderire ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni. La partenza prevista per maggio-giugno 2022 prevede un impegno di 1145 ore, ovvero 25 ore settimanali. La sezione aderisce a due progetti di servizio civile, compagni di viaggio al fianco delle persone con sclerosi multipla per la ripartenza dopo la pandemia. Questo progetto ha tra i propri obiettivi, quello di garantire alle persone un livello di qualità di vita, corrispondente alle proprie aspettative, supportandone nel mantenimento delle attività quotidiane. Prevede ad esempio servizi come accompagnamento con automezzi attrezzati per necessità sanitarie di benessere, interventi di supporto domiciliare, azione continuativa per decifrare e catalogare i bisogni delle persone. Ed il secondo coinvolge la persona con sclerosi multipla, protagonista della costruzione del futuro. Il secondo progetto ha tra i propri obiettivi quello di garantire continuità di relazione a tutte le persone nuove con sclerosi multipla, in particolare quelle che si sono rivolte per la prima volta ad AISM, per cui si tratterà ad esempio di implementare un sistema di risposte più sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo. L'importo mensile corrisposto sarà di 444 euro netti e la domanda dovrà essere compilata online entro il 26 gennaio. E domani alle 15.30 avrà luogo una visita guidata a cura della conservatrice storico-artistica del Museo del Territorio Biellese, Alessandra Montanera. Verrà ripercorso il tema del collezionismo che da sempre accompagna la storia delle raccolte presenti in museo e trova pieno riscontro nell'ascito della famiglia Mario Fornaro. La nuova collezione, giunta nel novembre 2020, sarà esposta temporaneamente fino al 6 marzo, in occasione della mostra Il Salotto di Collezionista, una raccolta di pittori piemontesi di fine ottocento e altri artisti del novecento italiano. Nella collezione sono numerose anche le opere d'arte di artisti locali, come Giovanni Paolo Crida, Guido Mosca e Pippo Pozzi, biellese d'adozione come Mario Carletti e Armando Santi. Per chiudere interventi mirati al forum, per sostituire il parquet e lavorare sull'illuminazione, il vice sindaco Moscarola assicura che parte dei fondi di Terra della Lana sarà investita in questo modo. Assolutamente, ultima cosa, dovrebbero arrivare quest'anno dei fondi importanti come Terra della Lana, avete già un'idea su come e dove investirli? Allora, al momento i bandi per la Comunità Europea dello Sport sono ancora in divenire in regione, quindi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi quanto monterà. Sicuramente sul forum andremo a fare importanti investimenti con il contributo che ci ha dato la regione, quindi finalmente andremo a sostituire il parquet, che ormai è dal 2008 che è lì, quindi assolutamente deve essere revisionato. Andremo a sostituire le lampade a LED che sono qualcuna guasta, quindi andremo a fare un onestà e la struttura per ottimizzare anche i costi. Questo sarà veramente l'ultimo aggiornamento, vi ringrazio per averci seguiti da parte mia e di tutta la redazione di Retebiella, approfitto per augurarvi un piacevole fine settimana. Grazie.